Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video tutorial e oggi vi mostrerò come scaricare Slenderman per PC o Mac. Innanzitutto dovete andare sulla pagina ufficiale che vi lascerò in descrizione e nella sezione Download for free troverete tutte le versioni per Windows o per Mac. Vi consiglio di scaricare la versione più aggiornata, in questo caso la 0.9.7. Una volta scaricato, ci metterà poco tempo, 5 minuti più o meno, vi darà una zip aperta il gioco. Vi chiederà di sciogliere la definizione, vi consiglio di non sciogliere una troppo alta perché sennò il computer si potrebbe surriscaldare e bloccarsi. Play. Start game. Il gioco funziona. Siamo nella foresta e il gioco consiste in trovare negli alberi o nelle case abbandonate pagine di diario, 8 pagine, per uccidere lo Slenderman. Però, man mano che vedrete le pagine dovete stare attenti a non incontrarlo nella foresta, ma soprattutto non vi girate mai. ora posso perché non ho ancora pagine. Oddio. Eccone una, dovrete cliccare sopra. Oddio, cercherò di farvelo vedere, lo slender. Eccone, cercherò di farvelo, cercherò di farvelo, cercherò di farvelo. Cavolo, inquieta un po' questo gioco. Eccone, cercherò di farvelo. Eccolo lì, bisogna subito cambiare la visuale. Infatti, se per caso li ho letto adesso, morirete. Il gioco è scaricato, avete visto che funziona. Per adesso direi che è finito. Grazie a tutti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao.